Già da tempo l'Associazione Costruttori Edili del Molise ha denunciato il problema dei ritardi nel trasferimento delle risorse ai comuni per la realizzazione delle opere e degli interventi finanziati dal PNRR. Questa situazione rischia di provocare forti rallentamenti nella messa a terra degli interventi e di determinare persino il fermo dei lavori da parte di molte imprese. Sul tema in questione, l'Associazione Costruttori Edili del Molise ha inviato questa mattina una nota ai parlamentari molisani, invitandoli ad un confronto costruttivo per risolvere insieme i problemi riscontrati. Siamo molto preoccupati per come sta evolvendo la situazione, ha dichiarato il Presidente Corrado Niro. Occorre accelerare l'attuazione del programma e riteniamo necessario un confronto a stretto giro con la delegazione dei parlamentari molisani per trovare insieme le necessarie soluzioni.